Prova, prova. Ciao a tutti, oggi ho preso il posto di un altro, però penso di poter comunque fare questa presentazione perché mi reputo esperto nell'argomento, visto che lo seguo fin dall'inizio, penso di essere stato potente uno dei primi italiani a seguire l'argomento delle criptovolute. Mi chiamo Franco Cimatti, ma in genere sono conosciuto con il nickname HostFat, è facile anche trovare su Google perché più o meno scrivo ovunque per promuovere questo tipo di tecnologia. E adesso le slide non sono pronte perché appunto non ero io che dovevo parlare, però posso far vedere i siti, parlare in generale, rispondere a domande, vedo un po' come posso gestire la cosa. Più che altro adesso magari per vedere un attimo quali sono le conoscenze, comunque faccio un po' di domande, cioè quanti voi avete, immagino molti avranno un po' sentito parlare di Bitcoin, quanti ne possiedono, qualcuno ne possiede un tot? Un po' anche, che ha fatto delle transazioni diciamo, ok, quanti invece comunque hanno sentito parlare di sta parola, del Bitcoin, delle criptovolute, che più o meno tutti quanti così. Ma avete letto anche un po' in genere le vostre informazioni dove vengono? Da giornali o vi siete informati voi direttamente? Cioè se alzate la mano ci sono per i giornali? Internet, quindi tutti quanti vi siete arrangiati? Ok, va bene, ma è buona cosa. Sì, sì, naturalmente sì, ma in generale la stampa parla male di tecnologie, cioè di cose che non conosce, comunque deve fare scalpore per tirare, per attirare diciamo lettori, quindi è naturale che capiti, soprattutto con le cose complesse diciamo all'inizio da capire. Allora, parlando in generale, anche adesso si chiedevo di parlare abbastanza in modo semplice, poi bisogna vedere quanto diventa banale. Il Bitcoin nasce nel 2009 con l'idea, mettendo insieme varie idee che erano già in giro precedentemente. Un personaggio chiamato Satoshi Nakamoto ha messo insieme queste idee e ha creato la criptovaluta. Già prima c'erano delle valute digitali, adesso una era Liberty Reserve oppure Egold, DigiCoin mi pare. Erano comunque sempre dei tentativi di creare delle monete digitali. Il problema è che tutte queste comunque erano dipendenti da un elemento centralizzato, che poteva essere un server o più di uno. Comunque c'era un'entità che era responsabile o era considerabile responsabile. E infatti tutte queste persone che hanno lavorato a questi progetti, per motivi più o meno legali, al di là che fosse corretto o sbagliato per il motivo per cui li hanno bloccati, sono stati messi in galera e gli hanno fatto chiudere il servizio. Oppure grosse multe, in generale comunque è sempre finita male. Invece nel 2009 questo Satoshi Nakamoto, che non si sa chi sia, ancora attualmente non si ha la certezza di chi sia, ha sviluppato un progetto open source, mettendo insieme varie idee che prima giravano in genere sulle mailing list di criptoanarchici o di esperti di criptografia e ha creato il bitcoin. Ha scritto un paper con spiegazioni in generale di come funzionava il sistema e ha creato la prima criptovaluta. La differenza di tutti quanti gli altri modelli digitali, la criptovaluta è un network peer-to-peer completamente centralizzato, cioè non esiste un server centrale o server che hanno un potere maggiore di altri. Ad esempio, se si viene a pensare ad altri sistemi peer-to-peer c'era Kazaa. Anche Kazaa viene considerato un sistema peer-to-peer, però lì c'erano i master server, mi pare che si chiamassero, che comunque avevano delle responsabilità più alte, quindi si chiudeva solo quelli e si riusciva comunque a bloccare il network peer-to-peer. Invece in bitcoin tutti quanti i server sono paritari, tutti quanti i nodi sono paritari, sono uguali fra di loro, potete scaricare voi il software open source, installarlo sul vostro server, sul vostro computer ed eseguirlo. Oppure potete compilarlo anche perché appunto è un progetto open source, da cima a fondo. Una volta che voi avete installato il nodo, vi collegate alla rete e diversamente dagli altri network peer-to-peer dove si scambiano file tipo musica, video, giochi, che ne so, quant'altro, viene condiviso solo un file, che è solo un database. E questo database contiene tutte le transazioni che vengono fatte all'interno del network bitcoin dal 2009, da quando è stato lanciato il network. Praticamente all'inizio c'erano due nodi, si sono collegati, facevano trasferimenti di prova, e già questi piccoli trasferimenti finivano all'interno di questo database, che venivano condiviso fra questi due nodi. Poi arriva il terzo, un terzo nodo che si connette, e comincia a scaricare tutto il database dall'inizio. E questo gli serve per sapere, per far sì che tutti i nodi sappiano, oltre che tutte le transazioni che ci sono state, anche lo storico di tutti quanti i conti correnti. I conti correnti vengono chiamati indirizzi bitcoin. Sono praticamente un indirizzo che è una string case decimale. E voi potete creare tutti gli indirizzi che volete, praticamente, schiacciando un pulsante. Non è tipo comune mail che devi scriverci, oppure comune ban, come in un conto correnti bisogna fare tutta l'operazione di KNC, di verifica del vostro conto, e vi aprono un conto in un server, in un servizio gestito dalla banca. Voi schiacciate un pulsante e fin si genera il vostro conto. L'indirizzo bitcoin è praticamente una chiave pubblica, o meglio, un hash di una chiave pubblica. Quando voi andate a generare un nuovo indirizzo, un nuovo conto, praticamente voi generate una chiave privata e una chiave pubblica. Della chiave pubblica viene generato poi un hash, e questo hash voi lo pubblicate in giro. E lo pubblicate in giro, o in giro, o privatamente alle singole persone che volete che vi paghino. E quando avete creato, come ho detto prima, questo indirizzo bitcoin, all'interno del vostro client personale viene generata la chiave privata. La chiave privata servirà per firmare le transazioni. E adesso potrei fare un esempio, più o meno, che se non può per capire, o almeno è buono per far capire, in genere, l'uso per le persone che non hanno una grossa idea di come funziona la criptografia, ma hanno in mente di come funziona la posta certificata. E sanno che nella posta certificata solo voi potete firmare quel messaggio di posta, e quindi si assicuri che l'avete firmato voi e non qualcun altro. E la stessa cosa si può dire anche per quando andate a firmare le transazioni bitcoin. E voi dite, sono io che possiedo questo indirizzo e voglio spostare un tot di questi bitcoin a un altro indirizzo. E fino adesso c'è qualcosa che, io di genere mi fermo un tatto ogni tanto e faccio delle domande. C'è qualcosa che non è stato capito in questo aspetto, quello che ho detto fino ad adesso? Qualche domanda? Bene. Allora, alcun'altra cosa si potrebbe dire adesso? L'altra parte è la generazione delle monete. Che questa è una parte abbastanza complessa, che è il mining. Prima di parlare di questo, bisogna parlare di cos'è che genera il valore. Come viene generato il valore delle cose. E c'è una cosa che in genere molti non comprendono esattamente questo aspetto, lo danno per scontato e poi non si rendono conto che non è magari come possono pensare loro. Ma il valore è soggettivo. Il valore di tutte le cose è soggettivo. Quindi anche se voi dite, ah per me questo oggetto qui vale, in questo momento voi usate come unità di valore gli euro. Quindi magari dite questa palla vale 10 euro. Però se appunto andate sul mercatino, su subito.it, su ebay, c'è qualcuno che potrebbe pagarla di più o di meno. Appunto perché il valore di quella palla è valutato in modo differente. E anche faccio un esempio molto estremo, anche l'oro. Voi pensate, oh l'oro vale molto. Se però siete in mezzo a un deserto e state per morire di sete, e dovete scegliere fra una montagna d'oro e un bicchiere d'acqua, voi date più valore al bicchiere d'acqua. Quindi il valore delle cose cambia in base alle persone, al momento e alla situazione. Facendo anche un altro esempio, anche questo un po' estremo, l'oro viene considerato comunque qualcosa di molto valore, poi bisogna andare a vedere perché. Ma se arriva un alieno da un altro pianeta che è pieno d'oro, della vostra montagna l'oro non gliene frega niente. E questo è anche una persona che può essere molto ricca, dà una valutazione diversa anche all'oro o a qualunque altra cosa, che molte persone possono dargli un valore. Comunque una cosa che bisogna comprendere è che tutto ciò che ha valore può esserci un accordo oppure, dire in una modo è sbagliato, però molte persone possono dare valore a una certa cosa, ma non ho detto che sarà mai lo stesso, e può cambiare a seconda della situazione. E questo per spiegare perché il bitcoin ha valore. Perché diverse persone si accordano, oppure seguono l'effetto network, di vedere che quella cosa lì ha valore. E qui bisogna andare a pensare anche come è nata la moneta. La moneta è l'oggetto più barattato. All'inizio, nell'antichità, la moneta non esisteva, esisteva più semplicemente l'economia del regalo, la gift economy, dove tutti quanti si conoscevano, e in genere c'erano le tribù che erano formate da 20-30 persone, che comunque fra tutti loro tutti quanti si conoscevano. E quindi ognuno faceva quello che doveva fare per rendersi utile. Per questo si diceva anche la gift economy, qualcuno andava a pescare, ma non è che andava a pescare di più o di meno, sapeva che il suo lavoro era quello, sapeva fare quello e andava a prendere il pesce. Poi c'era qualcun altro che magari sapeva prendere la carne, sapeva, ognuno aveva la sua abilità, doveva fare il possibile comunque per fare il bene di quella tribù. Quando è che nasce la moneta? La moneta nasce quando non c'è più questo aspetto della fiducia. E cioè, se ad esempio io una tribù incontro un'altra tribù, voi non siete sicuri di che ci sarà questa copertura? Voi potreste dare un po' di pesce, ma non siete sicuri che potete avere il corrispettivo, almeno per quanto voi considerate di valore, di carne. Questo è uno dei motivi. Poi c'è anche un altro aspetto, ad esempio, dove se uno deve dare a una mucca e l'altro ha soltanto due pesci, non è che magari può essere divisa facilmente una mucca, perché poi il resto della mucca può andare a male. E quindi si va a creare un bisogno, sia perché si entra in contatto con persone dove non si ha una completa fiducia, su lungo termine, e sia appunto perché ci possono essere delle situazioni dove non è facile fare uno scambio, un baratto. E quindi si va a cercare un oggetto che sia barattabile e che può essere accettato anche se uno non ne ha bisogno. Per fare un altro esempio, per vedere come può essere nata una moneta, se pensate agli carceri, molto spesso la moneta le diventa la sigarette, anche se uno non fuma. Perché in quel momento viene l'oggetto più barattato e voi, quando siete in carcere, accettate le sigarette non perché fumate, ma perché siete sicuri che in futuro qualcun altro potrà accettarle. Ed è così che nasce la moneta. Un tempo si poteva usare il sale, poteva esserci dei rametti, c'erano delle conchiglie, o sempre delle pietre, o poi si è orata anche all'oro. In genere ci sono alcune caratteristiche che fanno sì che qualcosa, qualunque cosa, possa diventare moneta. Sono la divisibilità, il fatto che sia facile da trasportare, il fatto che si mantenga nel tempo, il fatto che sia fungibile. Il fatto che sia fungibile, ad esempio, voi pensate, quando considerate, tipo le monete, facciamo l'esempio della moneta di 2 euro, e 2 euro, sono leggermente diverse, ma siete sicuri che potete scambiare una con l'altra. E la stessa cosa anche la quantità di oro. Se avete un chilogrammo d'oro, pensando che sia comunque perfetto, puro, e un altro chilogrammo d'oro, sono uguali. Cioè voi potete scambiarlo con un altro, senza che un altro dice, ma questo oro qui ha più valore dell'altro. Le persone possono dare un valore differente all'oro, in realtà potrebbe cambiare, si cerca di avere quelle cose dove è difficile che un essere umano possa dargli un valore di più, un valore maggiore. Ad esempio, questa montagnola d'oro, uno può dire, questa montagnola d'oro mi piace di più, perché? Perché me l'ha data mio fratello. Deve esserci difficile riuscire a dare un valore differente fra questi oggetti. E quindi questo si dice la fungibilità. Poi il fatto che deve essere facilmente divisibile è appunto una mucca, difficilmente può diventare una moneta, perché appunto se voi la dividete il resto può andare a male. Oppure, un'altra cosa, altre cose, cose con gli esempi che ho fatto prima, facilmente trasportabile, un macigno è difficile da trasportare, invece l'oro è più facile da trasportare, oppure si può dividere in pezzettini più piccoli, e quindi, oltre a essere divisibile, è più facile da trasportare. E un'altra cosa è che si deve mantenere nel tempo. Un tempo si usava anche il sale, ma comunque in generale si può preferire l'oro, o comunque una pietra, perché è più facile che si mantenga appunto nel tempo, perché non si ossida. Questo può essere un motivo. Oppure non si usa anche sempre la mucca, la mucca non è adatta perché va male. E quindi, queste caratteristiche che ho elencato, più un oggetto contiene queste caratteristiche, più è facile, probabile ma non certo, che possa diventare la moneta. Allora, tornando al bitcoin, che caratteristiche ha il bitcoin? Il bitcoin è fungibile, anche se è digitale, voi trasferite un bitcoin da un punto all'altro, e anche un altro vi dà un altro bitcoin, voi non sapete, ma questo è un bitcoin, anche l'altro è un bitcoin. Non riuscite a dare un valore maggiore all'altro, e quindi questa è la fungibilità. È divisibile, un bitcoin, anche se dite uno, ha otto decimali, e quindi voi potete fare 0,001 bitcoin. E quindi, non siete costretti, tipo, se mettiamo che il bitcoin, per gli esseri umani, si accordano, per un accordo sociale, dargli un grosso valore, se non fosse divisibile, magari un giorno il bitcoin potrebbe valere, appunto, 570 euro, e voi dovete andare a comprare il pane, non potete comprare il pane il bitcoin, sarebbe una pessima moneta. Se invece il bitcoin, appunto, è divisibile in tanti decimali, voi andate a comprare con 0,000x bitcoin, un pezzo di pane. Poi adesso, aggiungo anche che il bitcoin, per rendere più semplice la cosa, gli hanno definito anche, nomi ai vari livelli di decimali. Ci sono i micro bitcoin, i milli bitcoin, adesso non mi ricordo quali. Quindi, comunque, è un po' come il grammo e il kilogrammo. Ci sono domande adesso? Ho detto un sacco di roba. Domande su queste cose qua? Qualcosa che manca? Qualcosa che non è comprensibile? Allora, tornando al bitcoin, appunto, ha diverse caratteristiche, per cui può essere considerata moneta. All'inizio non aveva nessun valore, i primi scambi sono stati più per gioco, e il primo scambio reale è stato per comprare un paio, di piste, c'era uno che diceva, te mi compri un paio di piste qui da me, e poi me le vai a delle piste d'asporto, e quindi gli ha inviato bitcoin da una parte all'altra al mondo, per ordinare delle piste, perché c'è stato uno scambio. E da lì, praticamente, ha cominciato a formarsi un valore, in quel momento erano, mi sembra, 15.000 bitcoin, per 20 dollari, 22 dollari circa. e qualcuno ha cominciato, è da lì che è nato il valore, perché veniva considerato, per fare uno scambio di valore, perché un altro dicevi, sempre quello che ho detto all'inizio, qualcuno accettava i bitcoin, non perché gli servissero, ma sapeva che qualcun altro invece li avrebbe accettati, per qualcunque cosa, magari per un altro, per un altro, coppia di piste, oppure, che ne so, per delle calze di alpaca, quello che si è, non mi ricordo come si chiamano adesso, e da lì, si è cominciato a creare il valore, c'è stato cominciato ad esserci un accordo, fra varie persone, che si accordavano, per dare valore a questa entità, a questo valore, a questo numero, che si trovava su questo database. Allora, tornando adesso, come funziona il mining, e come assoluto, perché è sicuro il network bitcoin? Quando, ci sono due entità all'interno del network bitcoin, ci sono i nodi, all'inizio erano unite, poi alla fine c'è stata una specializzazione, comunque ci sono i nodi e i miner, i miner sono anche i nodi, per forza, in generale dovrebbero essere per forza, sono delle eccezioni, ma dovrebbero essere per forza dei nodi, i nodi sono sufficientemente quelli che si collegano, scaricano tutto quanto il database del network bitcoin, e quindi quando c'è qualcun altro che gli dice, guarda, io ho 10 bitcoin, li invio a te, e quindi per in cambio di qualcosa, e si aspetta, diciamo, questa persona che li accetti, come si fa ad essere sicuri, visto che parliamo comunque di qualcosa digitale, che questa persona non abbia fatto una copia di questi bitcoin, e cioè che aveva 10, come immaginate un file, che ha 10 bitcoin qui, fai una copia, li invio prima a lui, e li invio all'altro, e quindi praticamente può comprare due cose, e questo viene considerato il double spending, a questo termine qua, se andate a cercare su Google trovate il double spending, e trovate cosa ci va per impedire il double spending su bitcoin, il database va a certificare questa sicurezza, e cioè se io invio 10 bitcoin a lui, posso anche fare un'altra transazione, dove invio altri 10 bitcoin all'altro, ma l'altro dirà, no, io non gli accetto i tuoi bitcoin, la tua transazione fa zulla, perché l'hai già inviati all'altro, e in questo modo si evita appunto il double spending, come si fa a evitare questa cosa qua? tramite il mining, allora come detto prima, ci sono i nodi, che vanno a scaricare, che si collegano, vanno a scaricare tutto il database, di tutte le transazioni, il database è fatto di blocchi, cioè ci sono, e questi blocchi escono in media ogni 10 minuti, e dentro i blocchi ci sono un tot di transazioni, e quando voi con un nodo fate una transazione, e dite voglio inviare x bitcoin all'altra persona, voi state seguendo una transazione, questa transazione sarà all'inizio una transazione non confermata, e potete fare tutte le transazioni non confermate che volete, potete inviare 10 bitcoin a lui, 10 bitcoin all'altro, 10 bitcoin, potete inviare, avete 10 bitcoin sull'altro database, io potrei inviarli a tutti voi 10 bitcoin, cosa succederà però? che il prossimo blocco, solo una di queste transazioni sarà confermata, e questo là qui, è un lavoro che fanno i minatori, vengono definiti miner, non perché vanno a picchiare dentro una miniera, ma perché si viene considerato appunto che, il bitcoin come leggi economiche, funziona molto simile all'oro, perché per esempio è limitato, adesso una cosa che ho detto prima, la maggior parte, il numero di bitcoin che saranno creabili, da qui all'eterno, saranno 21 milioni, vuol dire che non ci saranno mai più di 21 milioni di bitcoin, la similitudine con l'oro è che, non si sa adesso in realtà quanto sia l'oro all'interno del mondo, ma si è sicuri che è una quantità limitata, e quindi per questo si viene anche definita, che il bitcoin tendenzialmente, anche se non lo è ora, sarà una moneta deflattiva, e cioè che nel tempo aumenterà di valore, non si dice che è ora così, perché comunque, i bitcoin vengono generati ogni 10 minuti una certa quantità, e quindi diciamo c'è una continua inflazione della moneta, invece che ne viene generata di nuova, allora per non perdere il filo, dicevo che il lavoro che fa il minatore, che fa il controllo delle transazioni, i minatori, come dicevo prima, visto che il bitcoin è simile all'oro, vengono definiti che vanno a minare, fanno un lavoro di mining, e i minatori lo fanno un lavoro, anche se non lo fanno fisicamente loro, con le loro manine, hanno dei computer che fanno dei calcoli, e quindi facendo dei calcoli, in continuazione, fanno un costo energetico, l'energia ha un costo, e quindi voi dovrete pagare in un modo, o la pagherete con un'altra moneta, oppure offrendo, che ne so, i prodotti del vostro orto, oppure vendendovi, comunque ci vuole una copertura, è un lavoro che state facendo, per questo dico c'è un lavoro, anche se non andate, l'energia è da pagare, ipoteticamente un tempo si poteva anche pensare, non adesso, di stare, metterci la bicicletta con la dinamo, e andare a minare, per creare energia, per far lavorare il computer, che faceva questi calcoli, comunque, che calcoli fa il miner? Allora, innanzitutto lui, come ho detto prima, i miner sono anche i nodi, loro ricevono tutte quante le transazioni, e vanno a compilare un blocco, per fare un esempio, immaginate il blocco come un foglio di testo, oppure come un foglio di Excel, è una metafora, dove vanno a indicare, c'è stata la transazione dal tizio A, che ha inviato XB coin al tizio B, la transazione dal tizio D, che ha inviato il bitcoin al tizio C, un tot di bitcoin, e sta mettendo all'interno di questo foglio di Excel, insomma, dentro questo piccolo blocco di dati, le transazioni non confermate, che lui sta ricevendo in quel momento sul network, prima ho detto, che io potevo inviare un sacco di transazioni non confermate a voi, poi ci sono altri utenti di bitcoin, quindi c'è l'altro utente lì, l'altro utente là, che fra di noi ci facciamo delle transazioni, e tutte queste transazioni sono, ripeto, transazioni non confermate, e il minatore ancora, prende questo blocco, e comincia a compilarlo, mentre dice, tutte queste transazioni non confermate, oltre a questo miner, c'è un'altra ancora, e un'altra ancora, e un'altra ancora, i miner sono tutti in concorrenza fra di loro, perché vogliono arrivare, prima degli altri, a trovare il blocco, prima ho detto che il blocco, forse troppo velocemente, c'è una media di blocchi che escono ogni 10 minuti, e ogni 10 minuti vuol dire che c'è stato un miner, fra tutti quelli che lavorano, non si sa quanti siano, chiunque può entrare a fare miner, ipoteticamente, però servono altri costi adesso, può mettersi a fare il miner, e il primo che riuscirà a trovare il blocco, vincerà un premio, allora tornando a quello che dicevo prima, tutti quanti i miner vanno a mettere insieme, tutte le transazioni non confermate, che hanno trovato, c'è il miner 1, il miner 2, il miner 3, che fa tutti questi, che ognuno singolarmente, va a compilare questo loro blocco, alla fine, l'ultima transazione che mettono, è diversa fra tutti quanti, ognuno di loro dirà, io come miner, mi merito, adesso sono 12,5 bitcoin, quindi ripeto, hanno messo tutte le transazioni non confermate, magari sono uguali le transazioni non confermate, quelle che ricevono, non sono costretti a farle uguali fra tutti quanti, però più o meno sul network, girano tutte queste transazioni confermate, quindi più o meno le conoscono tutti quanti, e quindi loro vanno a compilare questo blocco, e in fondo scrivono, io mi sono meritato 25 bitcoin, che devono andare al mio indirizzo, poi c'è l'altro miner che ha compilato il suo blocco, e ha scritto, al mio indirizzo devono andare 12,5 bitcoin, e così l'hanno fatto tutti quanti gli altri, il lavoro che fanno loro è trovare l'hash di questo blocco, e saper chi è che non sa cos'è un hash, ok, devono trovare l'hash di questo blocco, che è lo shadow 156, dello shadow 156, comunque è lo shadow 156, che deve rispettare una certa regola, devono esserci un tot di zeri davanti, e questa regola è un altro valore, che è condiviso all'interno di tutto il network, immaginiamo che in questo momento il network dice, noi accettiamo, cioè tutti i nodi dicono, noi accettiamo blocchi che abbiano la difficoltà 4, difficoltà 4 vuol dire che devono esserci 4 zeri davanti nell'hash del blocco, quindi torniamo indietro, c'è il minatore 1 che ha compilato il blocco, c'è scritto in fondo, questo è il mio indirizzo e voglio 12,5 bitcoin, e comincia a calcolare l'hash, e trova che viene fuori un hash di 3 zeri, non va bene, come fa per trovare un altro hash? ci vuole mettere un numero casuale davanti, è un insieme di dati, e in fondo ci mette il valore 1, calcola l'altro hash, oh, vengono 2 zeri, non va bene, ci mette il valore 2, vengono 1 0, non va bene, ci mette il valore 3, 4, 5, 6, va a metterci tanti valori casuali davanti, finché non viene fuori un hash che abbia questi 4 zeri, questo lavoro che sta facendo lui, lo sta facendo l'altro miner, l'altro miner ancora, lo sta facendo tutti quanti, non c'è una certezza di sapere quale sarà esattamente il valore che trova, quel valore, si chiama, viene chiamato nonce, e c'è quel valore random da mettere davanti a tutti questi insiemi di dati, che è il blocco, per trovare l'hash che ha 4 zeri davanti, non c'è una certezza, ma si è, si ha una maggiore probabilità se avete una potenza di calcolo maggiore, quindi se avete più computer più potenti, potete fare calcoli più velocemente, quindi è più probabile che voi siete in grado di trovare il blocco prima di altri miner, non c'è una certezza, ipoteticamente uno potrebbe anche accendere un cellulare, mentre là c'è un computer della NASA, l'accende il primo numero random che fa, trova il blocco, trova, è molto improbabile ma potrebbe riuscirci, il fatto che, dopo questa è una cosa che spiegherò dopo, comunque cosa succede, che quando un miner trova il blocco, il trova l'hash con i 4 zeri, se la difficoltà era 4, diciamo guardate, guardate, ho trovato il blocco, ho trovato il blocco, e invia il blocco ai suoi nodi a cui è collegato, e gli altri nodi dicono, fanno un controllo, per fare un controllo di un hash si fa molto presto, cioè è difficile trovare l'hash corretto, mettendo dei numeri casuali, ma una volta che si hanno il numero casual, il numero, il nos davanti, che potrebbe essere il 4, 5, un valore, e i dati, si fa presto a calcolarlo, quindi il nodo non deve fare tutto il lavoro che ha fatto il miner, il miner ci mette in media 10 minuti a trovare quel blocco, mentre il nodo riceve il blocco, fa il controllo in un mezzo secondo, ed è in grado di sapere se quel blocco è corretto, quindi tutti quanti i nodi ricevono il blocco, dicono, fanno un controllo, e se è corretto, lo vanno ad aggiungere al loro database, il database infatti di Bitcoin si chiama blockchain, forse qualcuno l'ha sentito questo numero qua, questo nome qua, perché è appunto una catena di blocchi, ogni blocco è collegato a quello prima, infatti in realtà all'interno del blocco c'è anche un'altra informazione, c'è il hash del blocco precedente, cosa succede quindi? Che per trovare la soluzione, il miner, una volta che è riuscito a trovare anche l'hash di questo blocco, e il suo blocco viene confermato, finisce su tutti quanti i nodi della rete Bitcoin, e cosa c'era scritto in fondo al blocco? C'era scritto, io mi sono meritato 12,5 Bitcoin su questo indirizzo qua, lui ha messo quindi di nuovo, ho spiegato prima all'interno del suo wallet, come tutti quanti gli utenti del network Bitcoin, lui ha creato dei conti correnti, che sono gli indirizzi Bitcoin, e fra questi ne ha creato uno che aveva messo in fondo, nella transazione che aveva messo all'interno del suo blocco, dove indicava che mi sono meritato 12,5 Bitcoin, quindi è nato questo blocco, che è finito all'interno di tutti i database, di tutti quanti i nodi, dove c'è scritto che su quell'indirizzo lì, ci sono 12,5 Bitcoin, quindi per tutti, quel miner ora ha 12,5 Bitcoin, ed è così che vengono generati i Bitcoin, qui c'è qualcosa che... Sì, uno può scrivere quello che vuole, poi mi sono meritato un tot, ma cosa succede? Che all'interno del nodo che viene installato dall'utente, ci sono delle regole scritte lì sopra, un software ha delle regole scritte per come funziona, e quindi arriva un blocco che dice, io mi sono meritato 100 Bitcoin per dire, ma in questo momento, cioè il nodo dice, queste non sono le regole corrette, il blocco viene ignorato, semplicemente questo, quindi il miner può scrivere quello che vuole, l'interno del nodo, il nodo viene ignorato da tutti quanti i nodi, può succedere, che magari uno va a scaricare il client Bitcoin, da un sito fasullo, da un sito sbagliato, non quello originale, quindi con delle regole differenti, e lui sarà l'unico che accetta quel blocco lì, quindi di per sé, lui se è andato a scaricare un software fasullo, potrebbe essere truffato in qualche modo, e succederà questo però, lui riceve tipo questi 100 Bitcoin, è stato pagato in qualche modo, dal miner, poi a un certo punto dirà a questi, che si trova all'interno del suo database, li invia a un altro, a un altro nodo, il nodo che non ha quel blocco lì, perché l'ha ignorato, gli altri nodi l'ha ignorato, diranno, questi Bitcoin non lo riceveranno mai, quindi ad esempio, io ho ricevuto questi 100 Bitcoin, e voglio comprarmi una macchina, sono il truffato, invio questi 100 Bitcoin a lui, che mi vende la macchina, lui non riceve mai questi Bitcoin, dice, io sto aspettando, non arrivano questi Bitcoin, non li accetterà mai, perché secondo lui, io questi Bitcoin non ce li ho, perché nel suo database, che guarda tutti gli altri, quel blocco non esiste, non ce l'ha, è stato ignorato X mesi prima magari, vediamo un po', adesso le altre cose, allora ecco, perché è in media ogni 10 minuti un blocco, i nodi controllano anche ogni quanto esce, ogni quanto la velocità in cui ricevono i blocchi, se ad esempio, i blocchi cominciano ad uscire nella media di 9 minuti, o di 8 minuti, loro automaticamente, dopo un tot numero di blocchi, che corrispondono in circa due settimane, non mi ricordo qual è il valore preciso, comunque i nodi contano in blocchi, anche se più o meno si tratta di due settimane, loro vedono che in due settimane, i blocchi hanno cominciato ad uscire nella media di 8 secondi, allora tutti quanti, che hanno ricevuto il blocco più velocemente, diranno, se la nostra difficoltà era 3, noi adesso accetteremo blocchi con la difficoltà 4, e in questo modo, vuol dire che tutti quanti i miner, che prima riuscivano a trovare blocchi facilmente, molto più facilmente di altri, forse c'era un miner, che aveva comprato, o dei computer molto più potenti degli altri, e quindi riusciva ad averli più velocemente, i nodi diranno, noi non vogliamo accettarli a questa velocità qua, e quindi le accetteremo con la difficoltà 4, o 5, insomma una difficoltà maggiore, e quindi tutti quanti saranno costretti a lavorare di più, perché diventa più difficile trovare un hash, che abbia 4 zeri, anziché 3, oppure 5 zeri, anziché 4, e quindi dovranno lavorare di più, per questo la difficoltà aumenta, può succedere anche l'inverso, e cioè i blocchi cominciano ad uscire in media, ogni 12 minuti, ogni 20 minuti, allora i nodi, tutti quanti diranno, i nodi, i blocchi li stiamo ricevendo troppo lentamente, e quindi noi adesso accetteremo la difficoltà, 3 anziché 4, dopo che sono passate due settimane di blocchi, e questa cosa qui serve per un altro motivo, anche per mantenere una certa regolarità economica, in modo in cui viene generata la moneta, vuol dire che ogni 10 minuti, come dicevo prima, c'è un miner che vince questi bitcoin, però vuol dire anche che c'è un'inflazione, c'è un tot di moneta che viene messa sul mercato, e si cerca di rispettare questa velocità, e cioè ogni tot ogni 10 minuti, per come viene distribuito i bitcoin sul network, si è partiti, che all'inizio ce ne erano 50 ogni 10 minuti, dopo circa 4 anni, calcolati sempre in quantità di blocchi, c'è il dimezzamento, ce ne sono 25, quest'anno c'è stato un altro dimezzamento, e attualmente ogni 10 minuti vengono ricevuti 12,5 bitcoin dai miner, vuol dire che ogni 10 minuti entrano sul mercato altri 12,5 bitcoin, e questa è l'inflazione che c'è all'interno del network bitcoin, e questa cosa andrà avanti fino al 1140 circa, in realtà le unità finiranno nel 2030, però comunque il mining fino ad arrivare ai decimali più piccoli, arriveranno fino al 1140 circa, sui 2140, altre domande qui? non... sta tutto compreso, c'è qualcosa che... va bene, vediamo un po' cosa... altre cose che... sì stai parlando di come diciamo il bitcoin viene emesso in qualche modo viene emesso in una maniera come hai specificato tu in maniera molto regolare e addirittura ci si tiene parecchio a questa regolarità sì il discorso è che poi sopra il bitcoin diciamo si va sviluppando un'economia sì e in questo caso l'erogazione del bitcoin rimane costante ma sopra l'economia ha degli alti e bassi molto molto pesanti diciamo quindi solitamente una moneta in qualche modo dovrebbe o potrebbe seguire l'andamento della propria economia in questo caso il bitcoin segue un suo andamento proprio e l'economia sopra il bitcoin invece ha degli andamenti molto è molto volatile ok ok allora c'è un vantaggio o un svantaggio in questa cosa qua e cioè se ad esempio diciamo che il bitcoin cominciasse a cercare di seguire l'economia innanzitutto bisogna vedere se è quanto è facile da realizzare questa cosa qua e soprattutto realizzarla in modo trustless e cioè dove non c'è bisogno di un intervento di un essere umano perché se si torna a pensare che c'è un essere umano che può intervenire per regolare mettiamo anche che la riesca a regolare a regolare in modo corretto in modo migliore l'uscita del bitcoin è un essere umano che lo fa che può essere anche un santo lui è un santo e quando muore chi c'è il dopo di lui oppure se lui domani impazzisce oppure gli gira male è girato male perché si è alzato male la mattina si torna di nuovo e da raffido c'è un essere umano e quindi può essere che vada bene ma non per sempre invece qual è il vantaggio che il bitcoin sia regolare è che lo sanno tutti che è così regolare e quindi tutti possono regolarsi in base a questo se anche domani quindi tutti sanno che c'è quella velocità è un valore costante e in base a questo si deve fare una valutazione sul mercato cioè è un valore costante su cui se invece ci basasse che c'è un essere umano al di là che o ci fosse anche una specie di intelligenza artificiale io adesso cerco di immaginarmi una cosa più trustless però comunque vuol dire che c'è qualcuno che ha fatto una decisione che è per il futuro e gli viene sballato tutto quanto cioè lui ha pensato viene generato una certa velocità questa la moneta mi serve e mi accomodi in questa velocità qui che l'economia vada così però può essere che sia scomoda qualcun altro quindi arrivi l'intelligenza artificiale e dice bisogna che lo cambiamo un pochino perché altrimenti qualcuno potrebbe avere qualche problema però vai a sfasare tutte quante le basi economiche che ha per un business plan che si era fatto qualcuno quindi invece si preferisce in realtà si potrebbe anche magari non vorrei dire che non si possa fare questa cosa qua perché comunque il bitcoin è il primo progetto che è realizzato in questo senso quindi può essere che in qualche modo qualcuno possa anche realizzare un qualcosa di più decentralizzato con l'intelligenza artificiale però il vantaggio è che il bitcoin ci ha questa certezza e cioè che le regole sono queste nessuno può cambiarle e te ti basi in base a queste qua il resto se il prezzo sale o scende c'è anche un'altra cosa che bisognerebbe valutare che il bitcoin è un mercato molto piccolo attualmente rispetto a tutto il resto del mondo e quindi per forza è molto facile che abbia un'alta volatilità però si pensa che in futuro questa cosa possa andare a cambiare almeno si ha questa idea che più il mercato diventerà grande più diventerà meno volatile il bitcoin e quindi si dice qualcuno dà conto agli speculatori in realtà si dice sempre che gli speculatori debbbero aumentare perché il prezzo diventasse più stabile perché vuol dire che quando c'è c'è uno speculatore che spera che il prezzo scenda c'è un altro invece che spera che il prezzo salga magari per un loro interesse per un altro tipo di per un altro tipo di giro di mercato che devono fare loro a qualcuno interessa che scenda a qualcuno interessa che salga più vai a aumentare gli attori da una parte dall'altra più questi sbalzi dovrebbero andare più o meno a calare quindi c'è questa idea diciamo poi bisogna vedere se è confermabile però si può andare a vedere che tendenzialmente la volatilità del bitcoin sta più o meno andando a calare nel tempo anzi mi pare che in realtà sia anche meno volatili rispetto ad altre monete statali che ci sono all'interno del mondo c'era una statistica adesso non non ce l'ho dietro questa qui se ho capito bene dopo dieci minuti avviene la conferma della transazione allora dopo non è detto allora bisogna sempre si non è detto che succeda questo allora c'è una cosa che si chiama mempool che viene indicata tutte le transazioni non confermate che girano sul network mettiamo in questo momento ci siano duemila transazioni non confermate sul network vuol dire che tutti i nodi più i miner hanno queste duemila transazioni non confermate all'interno del loro della loro ram e loro devono fare una scelta di vedere quanti transazioni mettere all'interno del loro blocco possono mettergliene una possono mettergliene a zero cioè mettergli soltanto loro oppure c'è un'altra cosa che devo dire infatti possono decidere quante transazioni mettere all'interno di questo blocco e può essere che una rimanga fuori se per esempio ce ne sono duemila e uno e il miner dice io ne metto duemila ma questa qui no la rimane fuori vuol dire che tutte queste transazioni riceveranno la prima conferma e invece l'ultima no non è ancora stata confermata forse probabilmente riceverà la conferma nel prossimo blocco ci sono due cose che devo dire anzi allora il miner non guadagna soltanto dal premio che lui va a indicare oh io mi merito questi 12,5 bitcoin tutte le transazioni che fate all'interno del network bitcoin dovete anche pagare una piccola commissione e questa commissione serve per evitare lo spam perché altrimenti se non ci fosse questa piccola commissione ci sarebbe qualcuno un'entità malvagia un'entità negativa che farebbe un'infinità anzi l'infinito possibile di transazioni per cercare di andare in tasare tutto quanto il network se invece c'è anche una piccola commissione l'infinito comunque non è possibile vuol dire che se uno ha un bitcoin comunque prima questo bitcoin lo finisce e quindi si è messa questa commissione qua primo per evitare lo spam sul network e in più per pagare i minatori i minatori quindi ricevono il premio dei bitcoin più la somma delle commissioni delle transazioni che hanno inserito all'interno del blocco che hanno confermato che hanno trovato non solo quando finiranno i bitcoin in premio come ho detto i bitcoin sono il massimo di un milione a un certo punto finiscono perché i minatori devono continuare a fare questo lavoro lo fanno perché appunto confermando le transazioni ricevono di nuovo la somma di tutte le transazioni di tutte le commissioni che si trovano all'interno di quelle transazioni che hanno confermato quindi ripeto se arriviamo a un punto dove i bitcoin non sono più generati io sono il miner ho trovato l'hash di un blocco con 100 transazioni ognuno di queste transazioni ha un tot di commissioni faccio la somma e questo è quello che ho guadagnato e quindi rimane l'incentivo per i miner per lavorare i miner un'ultima cosa puoi fare la domanda i miner quindi non è che lavorano forse lo possono fare anche per bontà ma i miner non lavorano per bontà lo fanno per avidità i miner controlla e lavora e fa questo lavoro qui di controllo perché vuole guadagnare non lo fa assolutamente per bontà vuole guadagnare quindi l'incentivo sta proprio nella sua avidità il bitcoin funziona grazie all'avidità come viene calcolata la commissione perché nel wallet vedo che c'è una commissione bassa diciamo una commissione media una commissione alta è addirittura una commissione che posso specificare io ok allora le cose sono un po' cambiate ultimamente e c'è anche un grosso dibattito che adesso non voglio tirare dentro perché dopo c'è da parlarne troppo ma attualmente le commissioni vengono calcolate più o meno in base a quanto è grande la transazione ma non quanto trasmette cioè se per esempio trasmette un bitcoin 100 bitcoin un milione di bitcoin è una cosa ma su quanto è grande proprio nello spazio la transazione se ad esempio io trasferisco un bitcoin e questo bitcoin è l'insieme le transazioni si possono anche combinare più indirizzi quindi ad esempio se io ho 20 indirizzi dove sono distruiti un tot di bitcoin in mezzo e la somma fa un bitcoin io posso fare una transazione e indicare prendo tutti questi indirizzi qui la somma di questi bitcoin e li invio da un'altra parte sono tanti indirizzi vuol dire che la transazione quando vai a scriverle è più grande e quindi può essere che te vai a pagare una commissione più alta lì rispetto alla commissione dove sposti da un indirizzo solo 100.000 bitcoin verso un altro indirizzo va andrei a pagare una commissione più alta per il prima quando ne ha trasfitto solo uno perché scrivendo proprio la transazione in testo è più grande e perché si va a fare un calcolo in base ai kilobyte perché appunto è una risorsa rara all'interno del network e attualmente anche i blocchi per come sono scritti sul software hanno una dimensione massima di un megabyte vuol dire che se a un certo punto le transazioni diventano troppe per entrare all'interno del blocco perché non c'è spazio il software in questo momento come dicevo prima i nodi si può anche creare un blocco di due mega di tre mega però il nodo che all'interno di come è scritto lo diceva questo blocco qua quando arriva vede che è oltre un mega non lo accetta lo ignora quindi il miner che vuole invece farsi accettare il proprio blocco perché all'interno del blocco c'è scritto che lui ha un premio vuole questo premio qui lui deve decidere quante transazioni mettere dentro e se te per esempio vuoi essere sicuro di avere una transazione nei primi blocchi possibili allora vai a mettere una commissione più alta e quindi se ci sono c'è un limite mettiamo che dentro il blocco ci stanno al massimo 100 transazioni e la tua ha pagato 0,00x bitcoin e gli altri hanno pagato leggermente di più e quello è il massimo di transazioni che possono stare dentro il blocco da un mega loro accettano il miner dice io accetto quello che voglio che mi dà più soldi e allora quando vedi la commissione tendenzialmente c'è una soluzione automatica che si basa su quanto è grande la transazione però te dici voglio pagare di più metti una commissione più alta e te andrai a pagare di più c'è un'altra cosa adesso i wallet fanno anche un altro controllo controllano come è stato come erano le commissioni precedenti delle transazioni precedenti cerca un po' di intuire come è in quel momento la situazione del network in base a questo può essere che ti faccia pagare di più cioè può essere che magari ti aspetti due o tre blocchi ti aspetti due o tre blocchi e magari ti costerà di meno ho poco tempo vorrei anche mostrare una cosa importante se si riesce a vedere si riesce a vedere allora il bitcoin è stata la prima però molti forse non lo sanno attualmente di altre criptovalute ce ne sono una marea ce ne sono centinaia che sono tutti quanti in competizione fra di loro il bitcoin in questo momento ha la maggior parte del volume adesso parliamo che il mercato in generale stiamo sui gli 11,5 milioni no miliardi di dollari al cambio dollaro e in questo momento il bitcoin domina il 79,2% di tutto il mercato e voi potete andare a vedere tutte queste valute qua che hanno un valore anche queste qui sono valute più o meno decentralizzate alcune sono un po' scam un po' truffe però la maggior parte hanno questa idea di essere valute decentralizzate e trustless e sono in competizione fra di loro anche con il bitcoin e quindi c'è anche chi fa trading con queste anzi qui vedete appunto che valore cambia voi potete andare a fare anche trading con queste qua quindi molti fanno anche trading in questo senso che non usano l'euro cioè l'euro lo usano per andare a comprare il bitcoin e poi non escono più rimangono a fare trading fra ethereum ripple litecoin tutti questi qui e cercano di guadagnare molto spesso in genere tornano su bitcoin perché viene considerata la più sicura però non è detto potrebbero anche spostarsi sulle altre e se voi andate a imparare bene come funzionano questi ambienti qua potreste individuare in realtà quale sarà la prossima moneta che prenderà il posto di bitcoin io sono molto investito in bitcoin spero che non succeda però voi potreste avere ragione e scoprire che l'altra moneta che ne so monero o steam è la vera moneta del futuro e prenderà il posto del bitcoin quindi voi andate comprate questa moneta qua il valore sale diventate anche ricchi e avete individuato le vostre conoscenze il vostro intuito vi ha fatto capire che quella è la moneta migliore e avete fatto più soldi e in più avete individuato qual è il futuro la moneta che tecnologicamente andrà a aiutare l'umanità qua altre domande su tutto quello che ho spiegato prima qui c'è un mondo di cose da dire però quando riesco a sapere allora se la mia transazione diventa confermata c'è un tempo c'è esiste un tempo massimo o per assurdo potrei capitare in un caso in cui allora se te metti una transazione a commissione zero oppure molto bassa può capitare che la tua transazione rimanga nella mempool cioè all'interno della ram di tutti i nodi per un giorno due giorni tre giorni e a un certo punto venga eliminata e quindi non verrà mai confermata e non la insonendo mai confermata vuol dire che comunque te i bitcoin non li hai come neanche mai inviati vuol dire che per i database di tutti quanti i tuoi bitcoin sono ancora lì su tuo indirizzo e può capitare che le transazioni possano metterci un'ora due ore tre ore anche un giorno più te aumenti la commissione più facile che verrà confermata in anticipo comunque non so se si è capito bene il network bitcoin è un network trustless è peer to peer vuol dire che non c'è nessuna entità che può controllarlo il vantaggio di questo è che voi potete pagare chiunque in qualunque altra parte del mondo basta che sia presente una connessione a internet non c'è nessuna entità uno stato la polizia o quant'altro che a meno che non vi arrivi di appuntare la polizia da addosso non è in grado di bloccare loro vedono una transazione lì e non possono fare niente per bloccarla ritornando al caso in cui io invio i miei 10 bitcoin a tutti a 100 persone chi vince quella transazione può andare a caso può andare abbastanza a caso però una volta che uno ha imparato come funziona il network lui lo sa tutti quanti vedono questa transazione non confermata nessuno deve accettare una transazione non confermata qualcuno in realtà accetta la transazione non confermata perché c'è diciamo un accordo fra un comune accordo fra le persone ad esempio se voi andate a comprare il pane da qualche parte e l'altro accette bitcoin voi dovreste andare lui dovrebbe per truffarlo dovreste fare una transazione non confermata e quando voi andate via da lì lui riceverà che quella transazione è stata annullata ma lui si ricorda il vostro viso è un po' come andare a fare un searchback con la carta di credito e quindi diciamo ci sono delle situazioni dove magari è difficile fare questo tipo di truffa ma in generale quando si accettano con le transazioni bitcoin bisogna sempre aspettare che arrivi almeno la prima conferma c'è un'altra cosa da dire che è importante ha un costo trovare il blocco per il miner può costare diversi milioni diversi milaie di euro questo vuol dire però che uno potrebbe un miner potrebbe anche cercare di tornare indietro nel tempo e cioè andare a beccare i blocchi precedenti e calcolarli in modo differente dovrebbe fare un grosso lavoro avere una grossa potenza di calcolo per poterlo fare e tornare indietro però vuol dire che deve calcolare un blocco due blocchi tre blocchi hanno dei costi molto più alti diventa mi sembra esponenziale tornare indietro però potrebbe anche cercare di farlo quindi ci sono dei siti che mostrano più o meno qual è il calcolo per trovare un blocco e per trovare due blocchi di seguito e questo vi può intuire per sapere quante conferme bisogna aspettare se ad esempio dovete comprare una casa che costa diversi milioni può essere che una conferma non basti perché il tizio che vi sta per comprare la casa e vi sta inviando i bitcoin per il contratto per una corda anche se sembra una cosa la casa magari non è l'esempio migliore ma ammettiamo che voglio truffarvi per la casa lui potrebbe andare a chiedere al miner e dire io sto per comprare una casa che dovrebbe costare milioni io ti pago che ne so un decimo che comunque è molto di più rispetto al costo magari del blocco per cercare di minare uno diverso rispetto alla prima transazione confermata per calcolare due blocchi di seguito e annullare quindi la mia transazione confermata quindi neanche le transazioni confermate possono essere completamente sicure se uno va a calcolare più o meno qual è il costo per annullare diversi blocchi chissà quante conferme gli servono in genere per la massima sicurezza 6 conferme vuol dire che ha un costo spropositato per un miner torna indietro di 6 blocchi e quindi 6 conferme sono considerate sicure però per tutto ciò che andate a comprare considerate che costa trovare un blocco diversi miliardi di euro quindi tutto ciò che costa meno di diversi miliardi di euro potete accettare anche una sola conferma io vorrei sapere se la transazione bitcoin è reversibile oppure no più o meno quello che ho detto adesso una transazione non confermata non esiste è come una transazione che non è finita sul database e quindi possono essere ce ne create tante altre una transazione bitcoin può essere reversibile se ne vale se il costo per i miner non è mai successa questa cosa però se se costa un blocco fare 10 mila euro ad esempio e la truffa permette di guadagnare un milione il miner potrebbe cercare di fare due blocchi di seguito che gli possono costare 100 mila euro perché gli permetterebbe di guadagnare dalla controparte un milione quindi bisogna vedere qual è il costo per fare x blocchi di seguito e in base a questo decidere quante conferma accettare c'è anche un'altra cosa da considerare questa è una situazione un po' estrema ma barare sul network bitcoin va a creare un grosso danno nella fiducia del network perché vuol dire se è possibile truffare le persone vuol dire che fai calare tantissimo valore al network e quindi il prezzo potrebbe calare se ad esempio adesso il bitcoin vale 100 euro e c'è stato un ritorno indietro di 5-6 blocchi vuol dire che la gente non si può più fidare del network bitcoin e quindi tutti quanti cercano di vendere la loro moneta perché non vogliono niente a che fare con questa truffa qua questa cosa vuol dire che un miner se riesce a fare una truffa di questo genere sta andando comunque anche colto il suo interesse perché lui ha investito moltissimo per portare avanti la sua centrale di mining adesso vi faccio dopo non so se arrivo a farvi qualche video costano diversi milioni per far mettere su una centrale di mining quindi se lui riesce a fare una truffa una qualche tipo di truffa ma danneggia completamente il master del bitcoin il suo business plan su lungo termine è fottuto e quindi c'è un altro motivo per non poterlo fare cioè deve esserci ci sono tutti questi centivi considerandoli tutti insieme fanno sì che il miner difficilmente vada a barare però è meglio non fidarsi mai e quindi ripeto la regola è quella di prima è considerare quanto stiamo per chi richiede il trasferimento e se per trovare x blocchi costa costa di meno può essere che allora la truffa valga la pena farla gli altri minatori te devi dire gli altri gli altri minatori vengono superati perché questo miner ha più potenza di calcolo se ha più potenza di calcolo vuol dire che arriva sempre prima di loro cioè in genere si dice che deve avere il 51% di potenza di calcolo però può essere anche fortunato potrebbe avere il 40% potrebbe già farne un tot di seguito potrebbe tentare però va sempre contro il suo interesse a lungo termine è difficile ma parliamo sempre di probabilità c'è un'altra cosa che non ho detto all'inizio e cioè nel bitcoin ho detto che si parla di probabilità non di certezza perché se ci fosse invece la certezza che appena uno ha una potenza di calcolo più di un altro vincesse sempre vuol dire che appena uno è più oltre all'altro vincerebbe sempre tutti i successivi blocchi e quindi il network diventerebbe subito centralizzato diventerebbe un normale paypal invece essendoci una probabilità anche se uno va dell'1% non è detto che gli riesca sempre cioè è probabile è molto sicuro ma è sempre una probabilità quindi questo dà una maggiore certezza e comunque si è entrata sempre è una domanda che esula un po' da bitcoin però riguarda diciamo il core il core ok blockchain per cui si parla anche di blockchain fuori da le cryptocurrency o su altri ambiti c'è qualcosa si sta muovendo qualcosa si parla di un'ipotetica pubblica si parla di altre tecnologie che possono beneficiare di questo allora la blockchain è diventata una buzzword e viene utilizzata per richiedere investimenti in generale cioè la maggior parte è così può essere che ci siano delle eccezioni ma la blockchain si intende quel network distribuito decentralizzato che è sicuro e che permette a tutti quanti di entrare a partecipare di questo è detto in modo molto semplice invece alcuni dicono la blockchain alla fine è un database distribuito fra persone scelte infatti si dice che è una come si dice una permissioned permissioned ledger vabbè c'è un altro termine per dire per dire che insomma che è un database distribuito fra pochi dove possono entrare solo loro quando si dice che andrebbe bene per la pubblica amministrazione può aver senso e in genere si fa possono fare anche altre cose con il bitcoin al trasferire il valore diciamo e quello che si pensa di fare nella pubblica amministrazione è di salvare degli hash all'interno dell'elettro bitcoin se ad esempio io ho un tot di documenti che indicano che ci sono delle procedure che sono state seguite diverse procedure ad esempio per un come si chiamano adesso mi viene in termine per degli appalti e bisogna assicurarsi magari che alcuni documenti siano corretti non vengono cambiati nel tempo che non ci sia qualcuno che vada lì nascosta a cambiare qualcosa si possono prendere questi documenti fotografare oppure mettere in un foglio di testo calcolare l'hash e poi l'hash metterlo come un commento nella transazione questo cosa vuol dire che se io faccio un hash tipo si può usare anche per fare per proteggere la proprietà intellettuale ad esempio io ho fatto una musica un brano un mp3 calcolo l'hash di questo mp3 vado a fare una transazione di pochi centesimi e ci metto come commento il mio hash questo vuol dire che per annullare dopo che ci sono passati che ne so 6-7 mila blocchi chissà quanti blocchi in mezzo ha un costo enorme cioè che non si può tornare indietro vuol dire che si può dimostrare che in quel momento lì che poteva essere un anno fa c'era quel hash di quel brano lì te puoi aver fatto anche non soltanto un hash di un brano poi aver fatto un hash di un file zip dove c'è scritto questo brano l'ho scritto io bla 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 con dentro il brano anche lì dentro quindi arriva qualcuno che tira fuori il brano e dice no questo brano l'ho fatto io volete farvi vedere lo zip guarda questo zip esisteva quel giorno lì e conteneva questi file qui fra cui ci sono io che firmo dove sono io che lo registro tutte le prove che volete e in questo modo voi avete dimostrato in modo certo matematico e assolutamente che non si può invertire la proprietà di quell'oggetto lì e questo si può fare anche soprattutto per un pubblico amministrazione cioè tutti quanti i documenti che bisogna dimostrare che non sono stati modificati si fa una fotografia si fa l'hash adesso si usa anche il merkel tree per mettere l'interno di un hash tutti quanti un'infinità di documenti e vai a salvare solo l'hash e hai salvato un milione di documenti c'è un servizio fatto da un italiano se volete andare a vedere faccio un po' va bene di pubblicità che si chiama eternitywall.it ma ce ne sono tanti altri se andate su un forum che si chiama bitcointalk.org c'è una discussione che si chiama salvare informazioni sulla blockchain c'è questo e altri eventi concorrenti quindi potete magari questo non vi piace ne trovate altri eventi da provare e quindi potete scriverci nei messaggi questo è un twitter è quasi un twitter decentralizzato potete scriverci quello che volete e questi messaggi rimarranno qui per sempre finché esiste il network bitcoin ci sono anche qualcuno mi ha anche insultato in questo qua vuol dire che mi avrà insultato in eterno c'è scritto ho fatto un figlio di puttana mi pare c'è la sezione invece notarize che è quello più semplice dove tirate dentro qui sopra un file viene creato l'hash e dopo x ore finirà dentro la blockchain e voi di nuovo ti avete dimostrato che esiste questo file per sempre grazie a tutti ciao